Anni dove le cose girano al meglio, anche talvolta, al di là dei propri indubbi, meriti. Potrebbe essere questa, anche se è prestissimo, la stagione del Casoli. Sei partite, sei vittorie per la matricola abruzzese. Oggi a Recanati tutto congiurava per il pareggio, l'atteggiamento degli abruzzesi, giudiziosi e guardinghi, qualche occasione sciupata dai giallorossi, fino al convulso finale con il palo di rosa e l'1-2 degli uomini di Paolucci, bravi e cinici. E gli oltre 200 sostenitori ospiti giunti al Tubaldi a stropicciarsi gli occhi. La Recanatese non deve rimproverarsi nulla, ha concesso pochissimo agli avversari ed ha avuto due nitidissime palle gol. Forse era scritto che doveva andare così, anche se la rabbia per come è finita resta tanta. Primo tempo in fatto di emozioni da dimenticare. Segnaliamo in avvio un'iniziativa di Savi, scattato sul filo del fuorigioco con palone sul fondo. Per il resto gara bloccata, molti errori anche negli appoggi più elementari, complice un terreno in precarie condizioni. A metà del tempo esce Siroti, stiramento per Aristè. Ad affiancare al centro Salvatelli si sposta a Fermani. Nel finale cresce un po' la Recanatese che si rende pericolosa al 36esimo con Iommi. Di testa non trova la porta su cross di Pettinari e con un tiro di Vitone deviato. Maragliano evita anche l'angolo giusto per suggellare il nulla di fatto pure nei tiri dalla bandierina. Ripresa più movimentata, resta negli spogliatoi chicco per Giannini. Al quinto si fa vedere Rosa di testa, palla sopra la traversa. Girandola di cambi, amoroso per Perrotta, Moretti e Capezzani per Garzia e Pettinari. Al ventottesimo su azione, sul seguente un calcio d'angolo, girata di Rosa. Maragliano è bravo e blocca a terra. Subito dopo Ferraioli manda sopra la traversa. Alla mezz'ora, splendido lavoro di Moretti, assist d'oro per Capezzani, che divora una grande occasione cercando il primo pallo ma spedendo a lato. Prima del pirotecnico finale, 89esimo, Moretti serve un ottimo pallone a Rosa che difende la sfera, si gira e prende il montante, complice la deviazione di Maragliano. Provesciamento di fronte, cross di Grieco e Giannini in posizione irregolare, viste riviste le immagini, libero di testa, non sbagliava, non basta. La recanatese si butta corpo morto in avanti e subisce la ripartenza micidiale del Casoli. Canaletti a terra Grieco ed è rigore che Giannini, ancora lui trasforma per lo 0-2 definitivo, francamente troppo. Se eravate venuti per il pareggio, ministro, avevate centrato in pieno la partita. Quali erano le vostre intenzioni alla vigilia? Poi avete trovato questi tre punti nel finale. Ma no, sì, il problema era quello di venire a vincere, di ottenere il massimo. Abbiamo incontrato una buona squadra, un campo non bellissimo, però c'è da dire che la recanatese ha fatto un'ottima partita. Non ci ha lasciato giocare, ci ha prestato, è una partita difficilissima per noi. Noi non abbiamo giocato una buona partita, sicuramente, non all'altezza delle precedenti. Ci può stare, faceva anche caldo, e alla fine penso che il più giusto era un pareggio. Però se passiamo di fuori queste due golle, li prendiamo, siamo contenti.